Allora Sindaco, buongiorno, grazie per averci di noi accolto nel proprio ufficio. Partiamo da questa questione dei rifiuti. L'amministrazione francese è stata presente in diversi tavoli negli ultimi mesi a livello provinciale, regionale e anche ministeriale. Quali sono i sviluppi odierni e se possiamo ancora parlare del fattore di pressione come un tema ancora attuale? Bella domanda, dovrei rispondere un attimino. Innanzitutto quello che stavi rilevando, che l'amministrazione è stata presente ai tavoli e voglio tener conto che nonostante un problema che ci portiamo avanti da anni, perché gli insediamenti di questi siti risalgono almeno a 10-15 anni fa e mai nessuna amministrazione si era mossa come ci stiamo muovendo noi. Quindi precisiamo anche questa cosa, perché diamo anche valore a un sindaco e un'amministrazione che si sta impegnando a 360 gradi, combattendo, scendendo in piazza, occupando, andando nei tavoli, arrabbiandosi. Non a caso fuori, mi chiamano passionari, abbiamo questa visibilità. E quindi la guardia non si abbassa. Siamo stati l'ultimo tavolo, è stato quello alla Regione di più di un mese fa, con l'onorevole Bonavitacola che seguiva l'occupazione dello Stira. Quindi l'impegno che ha preso e che è quello di adottare questa delibera, che preferisce più chiamare non, che miri al carico insediativo praticamente, però che al criterio localizzativo, che si chiama più carico insediativo, ma che più o meno il concetto è lo stesso, noi siamo partiti, noi abbiamo voluto dare un input agli organi supercomunali. Cioè noi abbiamo questo problema. La nostra area è un'area a vocazione agricola e siamo famosi nel mondo intero per i prodotti di qualità. La nostra agricoltura, oltre a produrre prodotti di qualità, produce PIL. E quindi questa è una cosa importantissima, soprattutto in un momento storico come il nostro, dove c'è una crisi industriale diffusa. Vedi quello che sta succedendo, Virpul, Ilva, e quello che sta succedendo nel sud d'Italia, dove i dati Svimez sono allarmanti, più di 2 milioni di persone negli ultimi 10 anni sono andati via, e il 50% giovani. Quindi noi dobbiamo difendere a denti stretti il nostro territorio, ciò che fa PIL, agricoltura, e l'altro nostro interesse è la fascia costiera, perché è lì che bisogna puntare sulla riqualificazione e sul turismo. Per cui, praticamente, partendo da questo presupposto, un sindaco che cerca di governare il proprio territorio, deve difendere il proprio territorio, da attacchi, da insediamenti di ulteriori siti che trattano l'immondizia. Questa cosa è venuta fuori in seguito ai roghi, poi ci sono stati i miasmi, insomma è cresciuto nel giro di qualche anno, nella popolazione questo sdegno, questa voglia di dire basta, perché nonostante erano anni che ci stavano queste strutture, però c'è stata una serie di concomitanza di eventi per cui la popolazione, anche noi, siamo arrivati veramente all'estremo, insomma non sopportiamo più. Per cui l'onorevole Bonavidacolo ha intimato alla provincia, c'era anche sul tavolo l'ARPAC, c'era l'ASI, c'erano i Vigi del Fuoco, c'era una serie di istituzioni che praticamente sono coinvolti, di lavorare per fare questa delibera che fosse legittima, perché ovviamente quando tu vuoi bloccare nuovi insediamenti c'è sempre il rischio di un ricorso amministrativo, e quindi devi costruire una delibera inattaccabile. Ora, noi abbiamo dato l'input, cioè praticamente il problema qual è? che non vogliamo che in quest'area si insedino ulteriori siti che trattano i rifiuti. Poi dopo ci andremo a contrattare la quantità autorizzata, ma quella non puoi dire ora di revocarla, altrimenti la Regione si metterebbe una situazione, cioè da un punto di vista legale, in difetto. Per esempio, quando noi controlliamo e chiudiamo, quella struttura che hai uso, quella quantità di rifiuti autorizzati, te la puoi sottrarre, ma questo è un passo successivo. La cosa che vogliamo ora è dire, quest'area, vocazione agricola, teniamo al nostro territorio, non vogliamo più ulteriori siti che trattano l'immondizia. E voglio precisare a chi ci ascolta, visto che le informazioni date non sono veritiere, probabilmente perché qualcuno non conosce bene le leggi, il Sindaco non dà autorizzazioni per i siti, e che se fosse per me ne darei zero, tant'è vero che nonostante nelle conferenze di servizio abbiamo dato parere negativo a due strutture sotto di me che si sono insediate, cioè era un rinnovo praticamente, sono insediate la conferenza di servizi, cioè voglio dire, se la Regione dà l'Occhèi, la provincia dà l'Occhèi, l'Arpac dà l'Occhèi, l'Asla dà l'Occhèi, cioè la nostra parola vale zero. Quindi il Sindaco non ha potere su quell'area di decidere e quindi è la Regione che dà l'autorizzazione e la provincia. Il Sindaco può controllare e controlla, soprattutto dopo questi incendi, grazie al tavolo permanente creato in prefettura, i nostri vigili urbani partecipano ai controlli, conciunti, Arpac, vigile del fuoco, provincia, quindi i controlli continui. Il problema è che quando li chiudiamo dobbiamo bloccare poi che la Regione diridia l'autorizzazione. Quindi siamo rimasti su questo fatto. C'è un po' di lentezza nella risposta, io so, mi sono sentita col Presidente della provincia, per cui stanno lavorando, il pool è un pool interno, non hanno costituito una commissione, sta lavorando il dottore Cavaliere, su questo è un tecnico della provincia con altri tecnici. La difficoltà, ci rendiamo conto che i tempi non possono essere stretti, perché la difficoltà è quella di censire tutti i siti nella provincia con autorizzazione regionale e provinciale. Però noi abbiamo bisogno di dati ufficiali, per cui io ieri ho scritto al Presidente della provincia, dicendo che vogliamo avere delle risposte ufficiali, e non telefoniche, a che punto stanno, perché questi ritardi, perché la città, perché l'amministrazione, ma soprattutto la città, aspetta delle risposte. Non solo, ho anche annunciato che ci sarà una manifestazione annunciata per il 6 dicembre, dove l'amministrazione parteciperà, visto che l'unica forma democratica che ci rimane è la manifestazione pubblica, il corteo, quindi ho già annunciato che noi parteciperemo a fianco dei cittadini a questo corteo per manifestare contro e per avere delle risposte certe. Aspetto la risposta, io ho scritto ieri mattina, c'eravamo sentiti in questo frattempo telefonicamente, aspettiamo una risposta certa. Comunque già annunciando questa cosa. Perché bisogna costruire, intanto è un punto di partenza, quindi quello, il merito dell'amministrazione è quello di aver posto il problema agli organi sovracomunali e aver fatto in modo che si muovano a decidere su questa cosa. Non vogliamo che la nostra terra diventi, io lo dico sempre, l'esempio di Giuliano non me ne vogliono gli abitanti, però quello è un esempio eclatante perché era una terra florida, era una terra dove c'era della buona agricoltura, della pastorizia e purtroppo è diventato quello che è diventato. Quindi noi siamo ancora a Piana del Sele, siamo ancora a Quarta Gamma, siamo ancora a Mozzarella e siamo ancora a Fascia Costiera e dobbiamo salvaguardare e lottare a denti stretti per il nostro territorio. E vorrei che tutta la città ci stia vicino, ci stiano vicino le associazioni come noi stiamo vicino le associazioni per poter fare fronte unico e arrivare a questo risultato. A proposito di risposte ufficiali di organi sovracomunali, qualche settimana fa c'era stato un question time alla Camera dove il Ministro Costa ha risposto ad alcune richieste, tra queste quella dell'Onorevole Conte che voleva appunto un commissario straordinario per la Valle del Sele. Richiesta che è stata bocciata dal Ministro Costa proprio perché ha auspicato delle soluzioni, risoluzioni anche in tempi stretti da parte della Regione. A questo punto l'amministrazione cosa si aspetta dalla Regione? Ma io ringrazio il Ministro Costa, praticamente il Ministro Costa viene sulle posizioni dell'amministrazione perché il Ministro Costa parla di fattore di pressione. Cioè dice voi comune fa solo un laps eboli battipagli voi comune comunque avete individuato la strada possibile che è il fattore di pressione per cui continuate su questa strada in effetti cos'è il fattore di pressione? La carica insidiativa è quello di valutare i volumi dei rifiuti presenti sul territorio sulla superficie. Poi, come diceva l'Onorevole Bonavitacola al denominatore possiamo modificare noi dobbiamo costruire una delibera che blocchi i nuovi insediamenti perché lui parla proprio di Piana del Sè parla di Eboli di Battipaglia di Ponte Cagnano di concentrazione di questi siti privati e pubblici e quindi della necessità di bloccare ulteriori insediamenti. Quindi noi ringraziamo il Ministro Costa di questa posizione molto netta e precisa come anche il fatto del commissariamento. io voglio dire abbiamo chiesto anche noi con forza le forze dell'ordine sul territorio sul tavolo della prefettura c'era il dottore Curcio qui avevamo scritto subito dopo il primo rogo addirittura cioè quello che praticamente gestisce il governo della terra dei fuochi con un commissariamento eccetera ma praticamente lui ha negato la possibilità attualmente di qualcosa del genere però la necessità di costituire questo tavolo permanente col prefetto che praticamente ognuno forze dell'ordine finanza carabinieri vigili ARPAC periodicamente ci si incontra e si dice i controlli li stanno facendo li stanno facendo li stanno li stiamo facendo perché i nostri vigili del fuo i nostri vigili urbani partecipano a questi controlli sulle strutture quindi lo ringrazio per almeno aver riconosciuto il lavoro che questa amministrazione sta facendo siamo d'accordo con quello che dice soprattutto quando siamo stati al tavolo al ministero abbiamo chiesto con forza c'era anche il rappresentante regionale abbiamo chiesto con forza al ministero di interferire anche con la regione per sollecitare il regolamento sulle emissioni o dirigine e lui ha dichiarato che si era sentito con l'onorevole Bonavitacola anche lì di spingere il regione a fare questo regolamento perché questo è l'altro grosso problema sono soprattutto i miasmi che praticamente ci angosciano tutte le mattine sono qualche mattina che non è che si sente neanche forse la pioggia però voglio dire abbiamo chiesto alla regione e alla provincia di chiudere quel sito almeno fino a che non facciano i lavori di copertura che noi abbiamo chiesto prima di Eboli di che trovassero una soluzione c'è una delibera di giunta nostra che è antecedente al finanziamento dove chiediamo alla regione auspichiamo che finanzi una sorta di copertura di quel sito che sicuramente non è a norma e che infesta e che ci attanaglia tutte le mattine con quel puzzo nauseabondo a proposito proprio del sito di Eboli qualche settimana fa alcuni membri del comitato sono andati lì e hanno accertato diciamo i miasmi con la presenza anche col placet anche del sindaco di Eboli a questo punto la chiusura del sito di Eboli a livello di percentuale quanto risolverebbe la situazione di miasmi a Battivaglia? Ma guardi che a Battivaglia c'è un'altra industria è risaputo però ogni volta che noi abbiamo i miasmi in centro a Rione Carmine Turco Taverna queste sono le aree interessate proprio perché mi avevano detto perché io da sempre sto dicendo che è Eboli c'è anche un mio video di più di un anno fa lì davanti dove ho chiamato i carabinieri di Eboli poi qualcuno arriva in ritardo ad ammettere che il puzzo che sente lì avanti è lo stesso che si sente in città però noi l'abbiamo detto dall'inizio anzi c'è il nostro consigliere Long che con sui video praticamente ha fatto una battaglia quotidiana quasi costante noi lo stiamo dicendo da tempo quel sito quando i vigili fanno il tour quando ci sono i miasmi io faccio fare un giro dei vigili con relazione scritta e ogni volta che mando i vigili in giro mi fa tutti tutti i siti che trattano rifiuti presenti sul territorio ogni volta che ci sono i miasmi il sito che praticamente emana cattivo odore è sempre e unicamente il sito di compostaggio di eboli quindi per noi questa è già una prova che quel sito non funziona del resto se tu vai là davanti e dichiari che la puzza che senti lì avanti è la stessa che senti in città poi dici spiegatemi come mai stai in città a tratti questo è una questione di atmosfera di clima cioè come va il vento come è posizionato il sito di eboli questi miasmi si avvertono essenzialmente nel rione Sant'Anna Taverna a volte il centro ma anche parte di eboli a volte il paterno la parte inferiore si avverte secondo come va il vento non in maniera forte come lo sentiamo noi perché proprio c'è una c'è una discesa c'è verso la piana verso da noi che viene questo questo miasma quindi probabilmente dovrebbero emanare dovrebbero attrezzarsi con questi spruzzatori di che abbattono gli odori dovrebbero cambiare spesso i filtri capiamo che costa molto e quindi se costa molto mantenere il sito di compostaggio che faccio io carico di più 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 umido tengo di meno l'umido nelle celle così lo svuoto subito ogni volta che loro svuotano smottano praticamente sollevano dalla cella questo rifiuto e lo portano fuori è lì che si genera il miasma ormai con i nostri appostamenti abbiamo verificato non capiamo perché non lo verificano gli altri perché gli altri che fanno arrivano fanno il controllo sulla struttura e vanno via se ci fosse una legge che regola i miasmi come esiste in altre regioni probabilmente quel sito sarebbe stato chiuso dall'inizio perché il miasma può non interessarti da un punto che può essere non un fattore tumorigeno però sicuramente è un fattore disgustoso e che ti altera la qualità della vita insomma quindi chiudiamo l'intervista con una domanda che esula fortunatamente dagli rifiuti si è chiusa qualche settimana fa una questione che ha assunto il banco a Battipaglia per circa 20 anni della signora Campione quindi con questo risarcimento da 21 anni quindi questo risarcimento di 5 milioni di euro che di certo pesa sulle casse del comune di Battipaglia quindi anche un po' per le tasche dei cittadini cosa ci può dire in merito? Ma la causa Campione è una delle tante quella più forte sicuramente e questo per dimostrare ai cittadini l'ho detto già altre volte che fa la sindaca la sindaca guardate non è bello governare una città senza poter programmare senza poter rispettare i desideri insomma vorrei fare una città più bella vorrei aggiustare questa fontana vorrei aggiustare le piazze vorrei fare le strade dappertutto però noi non possiamo fare muti perché siamo indebitati e per legge questo comune non può accedere a muti ma con quello che riceve che entrano nelle casse comunali deve pagare i debiti i debiti che sono debiti contratti anni fa perché anni fa non c'è stata questa idea di dire vabbè questo debito poi peserà negli anni sui cittadini e li costerà 4-5 volte in più di quello che può costare ora allora noi quando si contrae si giunge ad una sanzione voglio dire sono tutte per sentenze quando si giunge a una sentenza sotto di noi quello che facciamo chiamiamo e diciamo guardate soldi non ne abbiamo dilazioniamo negli anni in modo che non accumuli debiti su debiti questo non è mai stato fatto per cui si arriva a questa sentenza dopo varie trattative che sono durate tre anni queste trattative alla signora Gambione che voleva quasi che gli rifacessimo tutto nuovo insomma abbiamo chiuso con 5 milioni che non sono pochi però sono tre anni che noi mettiamo nel bilancio dei fondi dei soldi che poi avremmo dovuto dare a fine sentenza 5 milioni sono tanti perché 5 milioni avremmo potuto fare tanto in questa città noi che stiamo cercando in tutti i modi di avere finanziamenti pubblici vedi i PICS vedi le scuole fiorentino vedi le barriere architettoniche vedi i mutui che abbiamo recuperato per delle opere e per imbellimento della città cioè vuol dire noi stiamo campando su questi fondi intercettandoli dove c'è da intercettare sulle barriere architettoniche che qualcuno ha detto ci ringraziate per il suggerimento ci sono le mail che partono da giugno quando noi diciamo agli uffici di attivare per recuperare questi 70 mila euro per le barriere architettoniche ma no non scherziamo che dobbiamo siamo sollecitati da qualcuno per sapere che dobbiamo fare insomma questo mi sembra proprio voglio dire ridicolo io voglio ringraziare gli uffici voglio ringraziare l'assessore che spingono gli uffici e che intercettano e che fanno in modo di recuperare questi fondi quindi questa questa causa campione 5 milioni sicuramente pesa tanto ma almeno affrontiamo perché se non paghiamo sarà ancora di più ma non solo i 5 milioni c'è la causa barra 2 milioni e 4 che con gli interessi arriviamo a 3 milioni di euro e non è da poco sempre gli ACP futuro sempre questione sugli espropri sempre vizi di procedura cioè cosa che nessuno controlla ognuno va per fatti suoi negli anni passati qualcuno ha scritto ma perché non tutti i debiti fuori bilancio passano per la corte dei conti quindi state tranquilli ogni volta che c'è un debito fuori bilancio automaticamente viene inviato alla corte dei conti quindi per qualcuno che ho visto qualche commento denunciate denunciate passano per la corte dei conti poi la corte dei conti deciderà se c'è stato uno sbaglio di chi è stato lo sbaglio e se qualcuno deve pagare non è che siamo negestapo è automatico noi siamo un comune in riequilibrio e quindi siamo attenzionati a 360 gradi quindi otto questi 170 mila euro per il bando dell'efficientamento energetico se ci sono altri bandi altri fondi che arriveranno nelle casse comunali sì allora è partita la settimana scorsa l'avviso preinformativo questo abbatterà i tempi della gara per alla CUC di Bellizzi per i 3 milioni e mezzo circa per l'illuminazione pubblica presa di Ipix una parte servirà per ristrutturare la Diamicis con la piazza davanti perché viene messa come tutt'uno ma la Diamicis sarà incubatore di abbiamo avuto quei fondi proprio perché poi non servono per ristrutturare un edificio ma per creare qualcosa che sia incubatore di altre iniziative quindi abbiamo fatto in modo era mia idea dall'inizio da quando stava l'opposizione di trovare dei fondi per rivedere quell'edificio aperto a 360 gradi utilizzabile a 360 gradi per cui partirà penso che per inizio anno anche la gara d'appalto per l'assegnazione per l'illuminazione pubblica in quell'occasione ho detto che dovremmo garantire l'illuminazione pubblica delle aree periferiche via Tufariello la zona Lago e probabilmente anche Tufariello ma insomma vediamo sicuramente anche Fasanarella sicuramente quelle tre zone lì periferiche sicuramente perché prima erano pochi insediamenti cioè c'erano poche case oggi praticamente essendo le zone di di coltivazione molti molti stanno lì sul posto e quella strada veramente la sera è bruttissima va allargata un po' perché sono delle canalette vecchie non vengono più utilizzate va allargata e va messa un'illuminazione pubblica cioè quello che voglio dire a poco alla volta dateci la possibilità di poter costruire noi stiamo togliendo i debiti una volta che rientriamo dal riequilibrio possiamo accedere a mutui quindi i risultati di questo enorme lavoro si incominciano a vedere già a fine mandato abbiamo recuperato quell'altro milione e mezzo per per i mutui regionali insomma che si erano persi e li abbiamo recuperati anche lì ci saranno degli interventi un po' distribuiti faremo la viale della libertà quella parte che insomma va ballata e non va bene faremo una parte della stradale 18 a Taverna e faremo la piazza della Repubblica poi un milione e sedi sembra tanto però quando vai a intervenire da questo punto di vista li finisci subito però intanto questa è l'unica cosa che possiamo fare per ovviare a interventi pratici come riusciremo all'equilibrio quindi con fine mandato incominciate a vedere che cosa sta facendo sto sindaco uno sta mettendo a posto le casse del comune perché se non metti a posto le casse del comune non puoi programmare e non puoi ricominciare stiamo nello stesso tempo difendendo l'ambiente e il territorio a denti stretti stiamo lavorando sul PUC perché penso per la settimana prossima andremo in giunta per il preliminare e quindi lì attenzione soprattutto sia alla zona industriale ma alla fascia costiera quindi tante cose che non sono state fatte per anni a secondo mandato ovviamente per noi sarà tutto più semplice e più facile perché voglio dire possiamo finalmente programmare possiamo finalmente decidere dove vogliamo fare delle opere e dove vanno fatte ma un po' tutto a battipaglio c'è anche la parte Belvedere lì in questi fondi di Milione 6 riguarderà anche delle riqualificazioni di parte di Belvedere insomma cerchiamo un po' di essere presenti in tutte le zone che non siano solo il centro ma che sia anche periferia perfetto la ringrazio grazie a voi